Apple ha finalmente lanciato la nuova generazione di AirPods Pro e dopo due settimane di uso sono finalmente pronto a raccontarvi cosa ne penso. E poi la versione breve di questa recensione probabilmente la sapete già. I nuovi AirPods Pro costano un sacco di soldi e sono sicuramente il miglior paio di auricolari true wireless da utilizzare in combinazione con dispositivi Apple. Però c'è da dire che i nuovi AirPods Pro di seconda generazione sono veramente un bel salto in avanti rispetto al primo modello lanciato ormai tre anni fa. E con questi nuovi AirPods Pro Apple riesce un po' a recuperare il passo rispetto ai tanti altri ottimi auricolari true wireless che erano stati lanciati in questi ultimi anni che avevano stabilito dei nuovi standard e che forse avevano un po' lasciato in ombra i primi AirPods Pro. Con questi nuovi AirPods Pro di seconda generazione invece Apple torna a splendere. Rimanete con me che vi racconto tutto. A prima vista potrebbe non essere semplice distinguere i due modelli, i vecchi e i nuovi AirPods Pro perché nelle forme sono veramente molto molto simili. Però agguzzando un po' la vista si notano subito delle differenze sia sugli auricolari che sul case. Partendo dagli auricolari è cambiata la posizione della griglia per il controllo della pressione nell'orecchio e il sensore che rileva quando gli auricolari sono indossati che adesso è anche un sensore di nuova generazione come quello che avevamo già visto sugli AirPods 3 che è in grado di riconoscere la pelle e quindi fa sì che ad esempio quando gli auricolari sono poggiati su un tavolo anche se il sensore è a contatto con una superficie la musica non riparta automaticamente perché il sensore riesce a riconoscere che non è pelle. Le novità estetiche più importanti però sono sul case perché sulla parte laterale abbiamo un nuovo aggancio per fissare un laccetto che tra parentesi considerando quanto costano potevano anche includerlo un laccetto in confezione ma vabbè e sul fondo troviamo invece degli speaker perché la nuova custodia di ricarica degli AirPods Pro è trattata di un piccolo altoparlante che emette un suono di notifica quando la batteria sta per scaricarsi, quando vengono messi in carica gli auricolari e quando si collegano ad iPhone e grazie a questo speaker dall'applicazione Dov'è è anche possibile far squillare il case per ritrovarlo se lo abbiamo smarrito. Ma a proposito di Dov'è e di custodia per la ricarica c'è anche un'altra novità importante perché all'interno di questo case dei nuovi AirPods Pro di seconda generazione troviamo anche un chip Apple U1 che è lo stesso che abbiamo già visto sugli Airpag e che permette una localizzazione tramite tecnologia Ultra Wideband ovvero sia dall'applicazione Dov'è adesso potete ricevere delle indicazioni che vi mostrano proprio la direzione per andare a ritrovare il case qualora lo avesse smarrito. Dulcesi in fondo adesso anche il case esattamente come gli auricolari ha certificazione IPX4 e quindi resiste agli schitti. Bene anche se un livello di certificazione è più alto sicuramente non ci sarebbe di spesso. Ma diciamoci la verità nessuno compra una custodia per la ricarica. Quello che stiamo andando a comprare sono degli auricolari. Quindi adesso vi racconto cosa cambia e cosa non cambia nei nuovi AirPods Pro di seconda generazione. Ma prima di andare avanti se questo video vi piace vi raccomando come sempre di lasciare un like, iscrivervi al canale e magari attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Per noi è veramente importante, ci aiuta tantissimo a crescere e insomma tutte le solite cose lo sapete. Andiamo avanti. Torniamo a parlare degli auricolari e iniziamo dalla forma che è praticamente invariata e questo per me è veramente un gran bene perché secondo me i primi AirPods Pro e di conseguenza anche i secondi erano in assoluto gli auricolari più comodi da utilizzare. Sicuramente questo dipende ovviamente da persona a persona però io sono molto contento che Apple abbia mantenuto la stessa identica forma nel nuovo modello di AirPods Pro. C'è però una piccola novità perché per chi ha il canale additivo particolarmente piccolo c'è anche un nuovo gommino di taglia i7. Ma la vera novità è quella che non si vede e parlo in particolare del chip Apple H2 che si trova su questi nuovi AirPods Pro di seconda generazione che è un bel salto in avanti rispetto al precedente H1 che c'era nel modello di tre anni fa perché tra le altre cose ha il doppio dei transistor. Questo vuol dire una capacità di calcolo nettamente superiore che poi si riflette ovviamente nelle prestazioni sia dal punto di vista sonoro che dal punto di vista della cancellazione del rumore. Partiamo proprio dalla qualità audio che devo dire mi è piaciuta molto. Questi nuovi AirPods Pro di seconda generazione suonano infatti veramente molto molto bene ma secondo me la differenza in termini di suono tra questi nuovi AirPods Pro e quelli di prima generazione non si sente tanto nella rivoluzione delle varie frequenze dove comunque una differenza c'è, i nuovi AirPods Pro sono più raffinati sotto tanti punti di vista ma la differenza secondo me si sente soprattutto nella spazialità del suono ovviamente dopo aver attivato l'audio spaziale. Piccola parentesi l'audio spaziale non è una novità c'era già in passato così come c'era già anche la possibilità di poterlo personalizzare eseguendo una scansione del volto e delle orecchie tramite la true depth camera di iPhone, la fotocamera frontale di iPhone. Però grazie anche al chip Apple H2 il suono di questi AirPods Pro è molto più arioso, il soundstage è più ampio, in generale il posizionamento degli strumenti è più preciso quindi nel complesso il suono risulta effettivamente più piacevole. Nella recensione scritta che vi invito a leggere parlando del suono di questi nuovi AirPods Pro ho segnalato due possibili lamentele. La prima riguarda l'assenza di un equalizzatore perché anche questa volta Apple non include alcun tipo di equalizzatore e neanche dei profili tra cui scegliere anche se c'è qualche piccola possibilità di personalizzare il suono nelle impostazioni di accessibilità come vi spiego nella recensione completa che trovate nel link qui sotto in descrizione. Mentre la seconda lamentela possibile riguarda l'audio lossless. Ora quello riguardo l'audio lossless in realtà è un non problema perché è vero che Apple Music l'anno scorso ha convertito tutta la sua libreria che adesso è disponibile tutta in formato senza compressione. È vero che c'erano stati rumor che dicevano che i nuovi AirPods Pro avrebbero potuto sopportare l'audio lossless e quindi c'eravano un po' tutti illusi ma è vero anche che attualmente ad oggi non esistono auricolari Bluetooth che supportano audio lossless. Ci sono stati dei piccoli passi in avanti grazie a un codec annunciato lo scorso anno da Qualcomm aptX lossless che verrà montato su degli auricolari che saranno in uscita dentro la fine dell'anno però appunto parliamo di un paio di auricolari che devono ancora uscire che saranno i primi quindi insomma non è che tutta questa storia dell'audio lossless di cui tutti stanno parlando sia veramente un grosso problema. Anzi devo dire che Apple ha fatto una scelta che apprezzo forse perfino di più perché i nuovi AirPods Pro di seconda generazione supportano i nuovi codec LC3. Ora non starò qui a tediarvi troppo su cosa sono i codec LC3 e come cambieranno vi basta sapere che sono un codec scalabile che quindi adatta il bitrate a seconda delle necessità e che offre qualità superiore a parità di bitrate rispetto ai codec che già conoscevamo come SBC ed AAC ma la cosa interessante è che sarà il codec del futuro sarà il nuovo standard per tutte le trasmissioni Bluetooth quindi in un mondo che va verso codec proprietari dove Samsung si fa il suo codec con scalable, Sony si fa il suo codec con le DAC, i conglomerati cinesi come Xiaomi, Oppo eccetera si fanno il loro codec con LHDC, Apple ha scelto invece di adottare un codec che a tutti gli effetti sarà uno standard quindi tutto sommato molto molto bene, brava Apple. Ma lasciamo da parte audio e codec parliamo invece del sistema di cancellazione del rumore di questi nuovi Airpods Pro che è veramente impressionante. Passando dai vecchi ai nuovi Airpods Pro sarà sicuramente la cosa che noterete di più perché l'ANC di queste cuffiette è veramente eccezionale, è tra i migliori del settore se non addirittura il migliore del settore. Direi che probabilmente se la batte con quello delle Sony WF-1000XM4 non saprei dire chi vince tra i due ma comunque ci siamo capiti il nuovo sistema di cancellazione del rumore di queste Airpods Pro è veramente eccezionale, sicuramente merito anche del chip H2 di cui abbiamo già parlato e la cosa interessante per chi è un po' curioso di sapere di quanti decibel viene ridotto il rumore esterno, adesso è possibile vederlo proprio tramite l'applicazione il rumore di Apple Watch che vi mostra il livello del rumore esterno e quello ridotto grazie agli Airpods Pro. E parlando di cancellazione del rumore parliamo anche di modalità trasparenza. La modalità trasparenza dei precedenti Airpods Pro era già sicuramente una delle migliori del mercato e francamente questa di questo nuovo modello è solo una conferma. Però c'è una nuova funzionalità interessante che si chiama trasparenza adattiva, resa possibile anche questa grazie al nuovo chip H2. Quello che fa la modalità trasparenza adattiva è lasciar passare normalmente tutti i rumori ma tagliare quelli che superano una certa soglia che potrebbe andare a danneggiare l'udito. In particolare quello che succede è che gli Airpods Pro riproducono normalmente tutti i suoni che ci sono intorno a voi ma abbassano il volume di tutti i rumori che superano gli 85 decibel. Devo dire che il risultato è sensibile. L'ho sperimentato per esempio con ambulanze che passavano vicino ma soprattutto posizionandomi accanto a un cantiere dove c'era un lavoro in corso con un martello pneumatico e utilizzando i nuovi Airpods Pro e confrontandoli con i vecchi la differenza è effettivamente sensibile. Con i nuovi Airpods Pro si sente normalmente il martello pneumatico ma il suono è molto più attenuato quindi veramente comodi. Ma non voglio mentirvi forse la mia novità preferita in assoluto riguarda il controllo del volume. Io adoro gli auricolari in cui si può controllare il volume. Devo dire che le volte in cui non indossavo gli Airpods Pro di prima generazione era proprio perché mi mancava questa funzione che finalmente è stata introdotta sulla nuova generazione. Quindi rimane il sistema di controlli basato sullo schiacciare l'astina. Un click va in play pausa, doppio click avanti di canzone, il triplo click torna indietro di traccia, click prolungato attiva disattiva, cancellazione del rumore, modalità di trasparenza. Ma a queste funzioni che già conoscevamo si aggiunge la possibilità di eseguire uno swipe sull'astina per alzare o abbassare il volume. Veramente comodissimo, una cosa che aspettavo da tempo e ovviamente c'è anche un piccolo feedback audio, un piccolo TAC che vi segnala quando avete alzato o abbassato il volume. Parliamo anche di batteria perché migliora anche l'autonomia. Apple dichiara 6 ore con cancellazione del rumore attiva e fino a 5 ore e mezza con suono spaziale attivo e devo dire che i miei test confermano quasi alla perfezione le cifre dichiarate da Apple. C'è ovviamente la ricarica wireless e oltre che con tutti i caricabatterie wireless standard potete ricaricare i nuovi Airpods Pro di seconda generazione, anche con il MagSafe di iPhone e con il connettore degli Apple Watch. Per quel che riguarda i microfoni e la qualità in chiamata, devo dire che i precedenti Airpods Pro erano già uno dei migliori modelli per fare telefonate, quindi questi nuovi Airpods Pro di seconda generazione non potevano che essere una garanzia. Probabilmente è migliorato qualcosa, non saprei quantificare la differenza tra i due, quindi facciamo che vi faccio sentire come si sente rispetto alla generazione precedente e rispetto ad altri modelli della concorrenza. Ok, partiamo proprio con gli Airpods Pro di seconda generazione che sono questi qui. In questo momento io sto registrando all'aperto, ovviamente essendo un ambiente non controllato le performance dei vari microfoni che vi farò sentire potrebbero variare anche a seconda di quello che succede intorno a me. Comunque questo è più o meno come si sentono i nuovi Airpods Pro. Ok, siamo passati agli Airpods della generazione precedente, Airpods Pro ovviamente. Complessivamente i microfoni sono in entrambi i casi molto buoni, questi potrebbero essere ancora un po' più metallici rispetto ai nuovi che ovviamente hanno qualche miglioria, in complesso comunque ottimi quelli vecchi, ottimi quelli nuovi, ma passiamo a vedere com'è il confronto con altri modelli della concorrenza. Sono passato ai Galaxy Buds 2 Pro di Samsung, gli auricolari top di gamba lanciati qualche mese fa da Samsung, ha utilizzato ottimi microfoni, in questo confronto saranno ovviamente tutti i microfoni di fascia alta perché non avrebbe senso confrontarli con modelli troppo inferiori perché le prestazioni sarebbero inclementi. Comunque questi sono i Buds 2 Pro. Adesso sto parlando invece dai Jabra Elite 7 Pro, un modello un po' più vecchiotto, lanciato ormai più di un anno fa, ma voglio farveli sentire comunque perché questi sono stati lanciati e sono ancora il modello di riferimento per Jabra per quel che riguarda la qualità dei microfoni. Quindi Jabra Elite 7 Pro, adesso passiamo ad altro. Per ultimo vi faccio sentire anche Oppo Enco X2. Questi auricolari sono stati lanciati poco tempo fa, Oppo fino a un annetto fa o poco più, non era un brand noto nell'ambito dell'audio, ma questi auricolari mi sono riusciti parecchio. I microfoni secondo me sono abbastanza buoni, credo inferiori rispetto agli altri, ma comunque notevoli. E concludo questo confronto facendovi sentire di nuovo gli Airpods Pro di seconda generazione, sia così che non dobbiate saltare avanti e indietro per il video e abbiate già un riferimento alla fine con i nuovi Airpods Pro, sia perché quando ho registrato prima stava passando un tram, quindi la qualità dell'audio potrebbe essere un po' peggiore la prima volta anche per questo motivo. Quindi questi sono gli Airpods Pro di seconda generazione in un ambiente tutto sommato, silenzioso per quanto sempre all'aperto. Vediamo infine al prezzo sicuramente la nota dolente, perché il costo di listino di questi Airpods Pro è di 299€. Sono in assoluto gli auricolari True Wireless più cari che io abbia mai provato. C'è da dire che ormai negli ultimi anni la soglia dei 200, anche dei 250, è stata abbondantemente sdoganata anche da altre aziende, però 300€ per un paio di auricolari rimangono sempre un sacco di soldi. Ora, se siete su Android ovviamente non ne vale la pena, se siete su Android guardate altrove, ci sono tantissimi modelli di auricolari assolutamente validi. Vi lascio qui sotto la nostra pagina dedicata ai migliori auricolari True Wireless, nel caso vi interessi, sappiate che lavoro io, quindi parlo di modelli che ho provato personalmente. Quindi diciamo per chi usa Android non ne vale sicuramente la pena, per chi usa iPhone, Mac e magari anche iPad invece, francamente è difficile consigliare qualcosa di diverso rispetto a questi Airpods Pro per chi vuole l'eccellenza, perché è letteralmente impossibile trovare qualcosa che si integri bene nell'ecosistema Apple come questi, con tutte le funzioni che conosciamo, lo switch automatico tra i dispositivi, eccetera, e allo stesso tempo che abbia questa qualità complessiva, perché i nuovi Airpods Pro, come vi ho già detto, suonano molto bene, hanno un'eccellente cancellazione del rumore, poi ottimi microfoni, buona batteria e tutto il resto. Quindi 300€ sono veramente tanti, però se fate la spesa sicuramente non me ne pentirete. Per questa recensione è tutto, vi ricordo ancora una volta, se non l'avete fatto e se questa recensione vi è piaciuta, di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche. Io sono Giuseppe, vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su smartwork.it. Ciao!